Prosegue senza sosta in Calabria la stagione tennistica che ha visto la disputa di numerosi tornei open. Uno degli ultimi si è giocato a Davoli in provincia di Catanzaro sui campi dello Sporting Club San Francesco. Un torneo prestigioso come testimonia la qualità dei finalisti. Ad imporsi è stato Alessio Di Mauro, ex numero 68 al mondo, che in finale ha superato in un derby tutto siciliano, Nicoloschi di Rò 6-3-6-1. Un match a senso unico che ha chiuso un torneo ben organizzato e di ottimo livello tecnico. È un'organizzazione che va avanti da parecchio, da fine febbraio. Abbiamo trascinato l'organizzazione fino ad agosto per cercare di far rientrare tutto nei canoni della perfezione, sia per i giocatori che per lo staff che per gli spettatori che ogni anno veramente sono tantissimi e ci deliziano con la loro presenza. Siamo soddisfatti anche di tutti i giocatori che hanno preso parte dagli NC fino appunto a questo grande giocatore che ci ha onorato e la sua presenza e che ha voluto partecipare al nostro Open. I giocatori sono tutti veramente delle persone fantastiche, si sono saputi comportare in campo, si sono saputi comportare fuori dal campo e quindi è anche un'occasione non solo di vedere un grande tennis all'interno del campo ma di socializzare, di conoscere dei giocatori di livello anche come persone. Anche sotto questo punto di vista possiamo ritenerci più che soddisfatti.